A otto anni dalla prima denuncia del mancato utilizzo dell'eli superficie dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, Domenico Pettinari denuncia nulle cambiato. Un anno fa l'esposto alla Procura della Repubblica, un ritardo che continua a tenere in ostaggio un servizio fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Io ritengo che questo sia uno dei più grandi disservizi e inefficienze della sanità pescarese. Questo era un elisuperficie, fino a 4-5 anni fa ha funzionato, poi improvvisamente non c'è stato un nuovo appalto di Regione Abruzzo, hanno acquistato un nuovo elisoccorso molto più pesante della resistenza di questa elisuperficie. Ci sono stati poi delle situazioni particolari, appalti, contrappalti, falto sta che succede che da 5 anni non è funzionante. Quindi noi abbiamo che l'elisoccorso è costretto a caricare il politraumatizzato, che tante volte sono persone in fin di vita, trasportarlo in aeroporto perché qui non può atterrare, in aeroporto scendere, caricarlo su un'ambulanza, l'ambulanza passare nel traffico cittadino e arrivare in pronto soccorso. Con questa operazione si perde 10, anche 15 minuti di tempo e voi potete immaginare che perdere 10, 15 minuti di tempo può fare la differenza tra la vita e la morte di una persona. Un calvario iniziato nel 2017 a seguito di un nuovo bando per l'affidamento del servizio costato centinaia di migliaia di euro agli abruzzesi. Ci sono stati anche dei lavori terminati a luglio 2021 per la nuova pavimentazione e la segnaletica, fatto sta che a oggi questa struttura ancora non funziona. Ma sapete qual è l'altra assurdità? Che la ASL deve pagare la navetta privata, l'ambulanza che dall'aeroporto viene qui. Il servizio di ambulanza privata ha un costo 3.800 euro al mese più 39 centesimi a chilometro percorso fino all'ospedale. Questa è una tragedia perché qui per un minuto, due minuti il politraumatizzato può morire. Quindi essendo il tempo dipendente, sono situazioni tempo dipendenti, io ritengo che questa cosa non deve passare più un altro giorno. Un nuovo appello insomma oggi. Una nuova denuncia pubblica fortissima a seguito della denuncia che ho già fatto all'autorità giudiziaria un anno fa, ma quella fa il suo corso. Questo adesso è un appello forte politico perché la politica, l'assessore regionale della sanità, il presidente di regione che pensa ad inaugurare o a fare nuovi ospedali. Bisogna mettere in funzione quelli che abbiamo e soprattutto garantire il soccorso immediato alla nostra gente, se no tutto il resto è propaganda sterile.